Ciao, sono Elena Rughetto e oggi ti voglio proporre una soluzione più unica che rara. Un'intera palazzina in vendita con un bellissimo negozio al piano terra su fronte strada, oltretutto due strade di forte percorrenza, la via Mario Riva che arriva dal ponte di Paderno e la via Aldomoro che va verso Inversago. Questo negozio di 270 metri quadrati, come puoi vedere, è luminosissimo, ha ampie vetrine su strada e sotto abbiamo a disposizione un ampio deposito di circa 370 metri quadrati con l'ingresso carrabile. Al piano superiore l'abitazione, un appartamento di tre locali coi servizi, due bellissimi terrazzi e in piano mansardato due ampie locali molto molto grandi sempre a disposizione. Intorno giardino cintato e sul fronte d'ingresso un ampio parcheggio. Adesso te lo mostro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.